Vittoria, Leone e Chiara si stanno divertendo col mago Federico, anzi no, il mago Figo. Bambini, benvenuti allo spettacolo del mago Federico, il mago più Figo. Una mano al cielo, un applauso grazie, un applauso, iniziamo subito bambini con una magia, una magia del, aspettate una magia, c'è già un piccolo inconveniente. Allora guardate, adesso la pallina, vedete pallina rossa, diventa blu, soffia, soffia, soffia. Oh, un applauso. Controlli signorina che sia una penna questa, è una penna? Sì. Voilà, guardate e adesso vedete ho bucato, ho bucato il pezzo di carta con la penna. E adesso attenzione, attenzione. L'ho ricordata. Oh, no. Voilà, nessun buco, nessun buco bambini. Aiuto. Porta la papà, bravo. Voilà, grazie. Non c'è la penna. Ah, sì. Ma si muove da solo? Ce l'ha attaccato in filo. Ma che, ma non è vero, guarda, si muove da solo, guarda. Ma come fa, oh mio Dio, attenzione. Ok, un applauso, bimbi, un applauso, un applauso. Un applauso. Hai il potere di Elsa? Fammi vedere una magia di Elsa. Wow, questa è la magia di Elsa, ma è pazzesca, amore. Vittoria si diverte molto, infatti sta lì ferma e applaude il suo papà, mentre Leone invece cerca di scoprire i trucchi.